Buongiorno a tutti ai microfoni di Ok Italia Parliamone. Oggi abbiamo il contributo di Antonello Garzoni, preside della Facoltà di Economia dell'Università L'Ume Jean Monnet. Quale impatto l'emergenza Covid-19 avrà sulle imprese italiane a uno o anche a tre anni per gli effetti complessivi? Ed ancora, come riuscire a recuperare energia per le nostre imprese? Garzoni ci parla di tre momenti che dobbiamo tutti aver bene a mente. Il primo momento è quello della gestione dell'emergenza. Il secondo momento è quello dell'organizzazione per il rientro. Il terzo momento è quello della reimmaginazione di una nuova normalità. Sentiamo dalle parole di Garzoni il suo contributo. Grazie a Ok Italia Parliamone per questo invito. L'emergenza Covid-19 ha un impatto non solo sulle persone ma soprattutto sulle imprese. È un impatto di lungo periodo, un impatto che probabilmente non si esaurirà nei prossimi tre mesi ma ha un impatto sicuramente a uno o anche a tre anni se vogliamo guardarne gli effetti complessivi. Ci sono delle stime che sono sicuramente non rassicuranti in relazione a quello che è l'andamento dell'economia mondiale. Il studio Ambrosetti ci parla di un meno 7,5% dell'Italia. Ci sono studi che a livello mondiale iniziano a guardare a un meno 10, a un meno 12,5% a seconda che l'emergenza coronavirus sia adeguatamente gestita a livello pandemico mondiale o invece comunque mal gestita e quindi sostanzialmente con delle ripercussioni ancora più grandi. Ma a questo punto il pensiero che va alle nostre imprese è come riuscire a recuperare energia. Ci sono tre ambiti e tre momenti che dobbiamo avere bene in testa se vogliamo ragionare sostanzialmente su questa emergenza come imprese e come imprenditori. Il primo è proprio il primo passaggio, cioè gestire l'emergenza, cioè spegnere i fuochi. Il secondo rappresenta organizzarsi per il rientro e il terzo punto rappresenta invece il reimmaginare la nuova normalità. Fatemi essere breve ma sostanzialmente chiaro su ciascuno di questi tre punti. Il primo è il gestire l'emergenza. Gestire l'emergenza significa intanto dotarsi di un team di gestione per l'emergenza e di pensare al modo in cui comunque ridefinire i ruoli e chiarire le organizzazioni in un contesto che inizia a essere totalmente basato sul lavoro a distanza. Se non si hanno i ruoli chiari e non si è chiara la catena di comando diventa ancora più difficile riuscire a gestire tutta una serie di cambiamenti. Non solo questo perché il problema non è solamente la gestione delle persone ma anche la gestione dei clienti e della catena di fornitura su cui vintente vanno fatte tutta una serie di azioni nell'ottica di riuscire a gestire anche qui le emergenze che nascono appunto dalle principali esigenze dei nostri clienti e dei nostri fornitori chiave. Ma direi di più forse in questo gestire l'emergenza forse l'elemento centrale è mantenere la liquidità. La liquidità è la base di sopravvivenza delle imprese. Preservare la liquidità significa probabilmente lavorare su un drawdown dei debiti, lavorare su una rischedulazione di quelli che possono essere gli impegni dei mutui utilizzando quelle che sono le attuali forme concesse dal decreto Cura Italia ma anche iniziare a ripensare l'organizzazione in una chiave di magari snellimento in relazione a quello che potrebbe essere appunto il rientro perché questo rientro che noi dobbiamo comunque avere in testa e programmare in realtà è un rientro che sarà graduale e quindi ci costringerà a dover ripensare ad un piano di ridefinizione che non può essere immediato e quindi è bene prepararsi anche appunto con un piano di rientro ben chiaro. Ma la cosa più importante sarà immaginare che questo impatto non è un impatto dei prossimi 3-6 mesi, un impatto soprattutto nella ridefinizione completa dei nostri modelli competitivi e questo significa reimmaginare la nuova normalità. Quale sarà questa nuova normalità dovremo ancora chiedercelo, ci vuole tanta capacità, bisogna essere con stimoli imprenditoriali nuovi a reimmaginare il nostro futuro. Ringraziamo Antonello Garzoni, preside della Facoltà di Economia dell'Università Lume Jean Monnet per la sua chiarissima esposizione, ha aiutato i nostri telespettatori sicuramente ad avere chiarezza su cosa ci aspetterà per il nostro futuro economico. Arrivederci al prossimo contributo.